Quanto è stato bello? Molto, molto molto bello. Ci aspettavamo un palazzetto così oggi, tantissima gente che ha venuto a accompagnarci, a tifare per noi. È un'allegria per tutta la squadra, per tutti i ragazzi, però anche per tutta la gente che ci ha accompagnato la stagione. Quindi per voi questo è uno scudetto o non vi accontentate? No, allora lo scudetto credo per noi sia stata la qualificazione per i play-off. Questa è la dimostrazione di quello che abbiamo fatto molto bene durante la stagione e che ancora possiamo fare, quindi siamo più positivi che mai.